Il prossimo ospite è Vittorio Gallese, che è un neuroscienziato e uno degli scopritori dei neuroni specchio. Ci faremo spiegare che cosa sono e come funzionano. Il suo intervento sarà un dialogo con me, il titolo è Il corpo non dimentica, memorie implicite e pratiche sociali. Un bell'applauso. Buon buon maniggio. Eccoci. Allora, la partenza, secondo me, una partenza interessante è il punto di Ferrari. La conclusione di Ferrari è che le macchine possono scambiarsi informazioni, quindi memorie, ma non possono condividerle perché hanno un corpo mortale. Quindi ciò che distingue l'intelligenza artificiale da quella naturale è l'avere un corpo che muore. Dalla prospettiva di un neuroscienziato e della neuroscienza, appunto, com'è questa affermazione? Ma dunque, Maurizio ha toccato molti punti interessanti che trovano notevoli punti di corrispondenza su un percorso che stanno compiendo le neuroscienze cognitive oggi. Dico uno perché neuroscienze va declinato al plurale, insomma, coesistono non solo approcci che vanno dall'ultrapiccolo, lo studio delle molecole, dei recettori, dei neurotrasmettitori fino a una visione più globale dell'attività del cervello che cerca di correlarla al pensiero o al comportamento, ma coesistono anche molte anime. Per cominciare con la lista dei cattivi, la mia ovviamente, è un modo di vedere le cose molto diffuso che secondo me avrebbe bisogno di una sponda anche di psicologia del profondo per permettere in evidenza le radici più nascoste. E quest'idea per cui questo uomo orfano di Dio e del geocentrismo si aggrappa disperatamente alla cosa che gli sembra unica a potergli garantire questa unicità e questa unicità è la mente, la coscienza e l'intelligenza. Fino ad arrivare a ipotizzare soluzioni del tipo Deus Ex Machina per cui un bel giorno una mutazione di un gene, che hanno anche dato il nome, il gene Fox P2, Pinker addirittura l'ha chiamato il gene della grammatica, trasforma il bestione peloso in animale parlante. Ecco, non scherziamo, insomma. Noi, la natura ha degli aspetti di continuità che poi mostrano delle apparenti discontinuità per una serie di concause accidentali e quindi la mente non è nella testa, la mente è nella testa, nel corpo, nel mondo che ci circonda e nei corpi delle persone con cui noi interagiamo. Si parlava di artificialità, ha ragione Maurizio, noi siamo decisamente artificiali, non c'è cosa più artificiale del panorama toscano, la natura, sì, la natura riplasmata dalla mano dell'uomo. Quindi quando si pensa alla postura eretta, la prima cosa che ci viene in mente è che liberiamo la mano e la mano diventa poetica, creatrice, eccetera, eccetera, eccetera. Dimenticando un altro, diciamo così, effetto collaterale dell'assunzione della stazione eretta, che è quello di avere un nuovo orizzonte. Questo Erwin Strauss lo dice chiaramente. Rispetto a un quadrupede il cui orizzonte è vincolato dall'asse principale di simmetria, che è quello del tronco, una volta che noi ci iniziamo sulle gambe abbiamo un orizzonte molto più lontano e verosimilmente questo potrebbe essere uno degli elementi che ci aiuta a distaccarci da un mondo che diventa sempre meno soggetto e sempre più oggetto. Quindi è un effetto a cascata che non è stato programmato a tavolino o che non deriva da una proiezione all'indietro di quello che pensiamo di essere oggi, cioè animali linguistici. Potrei continuare, la restrizione del canale del parto che deriva da questo bipedalismo ci rende neotenici, cioè nasciamo immaturi. Quando noi nasciamo il nostro cervello pesa poche centinaia di grammi, a maturazione arriva 1300-1400 grammi, che cosa vuol dire? Che il nostro cervello compie la gran parte della sua maturazione fuori dall'utero dove? In una rete di relazioni con altre persone, con gli adulti di riferimento se va bene e poi via via fratelli, sorelle, cugini, insegnanti, amici, amanti, mariti, mogli e potrei continuare. Quindi questa relazionalità, questa fragilità che richiede la cura determina anche il costituirsi di legami e questi legami perpetuano delle memorie che poi vengono tramandate di generazione in generazione. Quindi il primo equipaggiamento di memoria è antropologico e deriva dagli usi dei costumi che apprendiamo mimeticamente relazionandoci con gli altri. Per fare un passo indietro e cercare di, io dico quello che ho capito io dei neuroni specchio prendendo un rischio gigantesco. Ok. Allora cerco di semplificare al massimo, poi lei mi corregge. Quello che avete scoperto è che c'è un rispecchiarsi nell'alterità, nelle relazioni interpersonali, per cui se io la vedo piangere in qualche modo mi si attivano l'area relazionata al pianto nel mio cervello, l'area neuronale. Questo significa di fatto tagliare tutto il dualismo della storia del pensiero occidentale, cioè quello fra soggetto e oggetto, perché in qualche modo io la devo inglobare per comprenderla. Cioè il fatto che l'Inter, prima diceva cervello e corpo, cioè è un cervello che non ha più confini quello che state descrivendo, l'anima e il corpo, l'io e il tu. In qualche modo la teoria dei neuroni specchio, che mi piacerebbe lei provasse a riassumere, spezza il dualismo su cui si basa la nostra cultura e il modo di pensare. Ma insomma detta così è un po' intimidente, mi accontenterei di molto meno. Diciamo che è un'ulteriore dimostrazione fatta con un linguaggio di descrizione subpersonale, perché noi studiavamo i neuroni, oggi sono passato da 20 anni all'uomo, quindi studiamo tutto il cervello, ma noi studiamo una parte del tutto, il tutto è l'organismo, noi studiamo il cervello o i neuroni e cerchiamo di correlarli. Ma che l'uomo sia un essere relazionale, non c'era bisogno della scoperta dei neuroni specchio, diciamo assevera una visione dell'umano che mette al centro la relazione se altro. Poi in realtà questo rispecchiamento, qui questo nome è un po' croce e delizia, cioè da un punto di vista del marketing scientifico che non è stato cercato, si è rivelato di grande successo perché uno immediatamente crede di capire, ah sì, io ho un neurone che mi fa fare un movimento, questo neurone si attiva anche se sto fermo quando lo vedo fare all'altro. Però c'è una differenza sostanziale dallo specchio, lo specchio è una superficie riflettente che non può che riflettere ciò che gli mettiamo di fronte, quindi se io ci metto una mela è altamente improbabile che lo specchio mi rifletta una pera o una banana. Noi, se vogliamo continuare a utilizzare questa metafora, rispecchiamo metabolizzando quello che ci si para dinnanzi. Ognuno di noi ci mette del proprio, ci mette ad esempio le memorie implicite inscritte nella nostra corporeità. Io ho scelto questo titolo che noi dimentichiamo, spesso è utile, Dio solo sa se non è un ingrediente che ci sarebbe molto utile negli anni a venire. Il nostro corpo in una certa misura no. E qui noi e il nostro corpo a proposito delle voragini, ma insomma stiamo sul pezzo. Queste memorie implicite sono ad esempio le memorie del trauma. Noi sono anni che le studiamo in Sierra Leone, noi vediamo come poveri esseri umani che per sventura sono gettati in un mondo che non li cura, che non li accoglie, ma che li abusa, li violenta, li massacra. Il loro corpo introietta questa relazione distorta e patologica e queste distorsioni, queste persone poi se le portano avanti nel loro sviluppo successivo. Per cui se voi a uno di questi ragazzi fate vedere un volto che esprime tristezza, vi dirà che vede rabbia. C'è un bias sistemato. E questo verosimilmente è anche dovuto al fatto che questo è funzionale ad adattarsi in un mondo che non ti cura, ma anche, anzi, cerca di schiacciarti. Quindi il meccanismo di rispecchiamento è un meccanismo che ci connette gli uni agli altri. Il che non implica che siamo buoni, non implica che siamo simpatetici, non implica che siamo altruisti. Cioè possiamo esserlo, ma non perché abbiamo i neuroni specchio. Sono due cose su cui io non ci ho mai messo la faccia e non mi sono mai sognato di pensarlo o di scriverlo. Il punto è che però il modo con cui noi rispondiamo all'azione, alle emozioni o alle sensazioni dell'altro, con questo meccanismo che preserva l'alterità dell'altro. Perché se noi misuriamo la scarichetta del neurone quando l'azione viene eseguita, mediamente ha un'intensità maggiore rispetto a quando noi stiamo fermi e vediamo qualcun altro farlo. Lo stesso, io provo disgusto, mi si attiva una parte del cervello che si chiama l'insula anteriore, che si attiva anche quando riconosco una smorfia di disgusto nel volto di qualcun altro. Ma questa stessa parte del mio cervello, in queste due situazioni fenomenicamente enormemente differenti, si connette dinamicamente con parti che sono diverse. Quindi, diciamo, la situazione ideale è quella in cui io nell'altro riconosco non l'identico, ma un simile, di cui però apprezzo l'alterità. E diciamo, questo meccanismo ha delle caratteristiche che permette di realizzare questa modalità di relazione. Poi siamo noi che decidiamo cosa vedere nell'altro. Lì, neuroni specchio, non c'entrano più nulla. Dobbiamo rispecchiare, rappresentare, reinterpretare. Però lei parlava anche di intersoggettività prenatale, cioè questo meccanismo inizio prima della nascita. Io quando aspettavamo i nostri figli facevo il buffone, spernacchiavo la pancia di mia moglie, cantavo le canzoncine, perché se non altro quello che crede uno di aver imparato poi cerca di applicarlo anche nella vita quotidiana. Ma al di là di questa anedotica ci sono degli esperimenti che dimostrano come il cervello del neonato reagisce elettrofisiologicamente in modo diverso se gli facciamo ascoltare una registrazione della ninna nanna che ascoltava quando era in utero rispetto a una ninna nanna melodicamente, armonicamente simile, ma diversa. Quindi tutto va retrodatato a prima della nascita. La relazionalità c'è già perché come mammiferi noi ci sviluppiamo all'interno di un corpo che ci ospita. Noi anni fa abbiamo studiato i movimenti di coppie di fetti gemelli in utero e quello che abbiamo visto è che la cinematica, cioè il modo con cui si dispiegano i movimenti di questi feti, questa cinematica è diversa a seconda di dove muovono il braccio. Quindi se vanno ad accarezzare la schiena del fratellino o della sorellina noi vediamo delle caratteristiche che sono tipiche di un movimento molto più controllato, con più decelerazione rispetto a quando si toccano o vanno a esplorare le superfici interne dell'utero. Lì abbiamo dovuto pesare le parole perché sono temi ultrasensibili da un punto di vista etico, ma abbiamo intitolato il lavoro Wire to be Social, cablati per la socialità. Proprio perché la dimensione dell'altro è premiale addirittura in una fase prenatale, in fase uterina, fetale. Tutto questo rende la cultura, che è una forma di memoria sedimentata in qualche modo, totalmente centrale anche da un punto di vista evolutivo e relazionale, perché è evidente che il frutto, il corpo di questa intersogittività è la cultura. Quindi cosa sono artefatti di secondo grado, cioè oggetti culturali? Sono la nostra natura, lo diceva bene Maurizio, noi siamo naturalmente artificiali o artificialmente naturali. Uno dei primi strumenti tecnologici che ci siamo inventati, il fuoco, lo diceva anche lui, non serve solo a riscaldarsi e a cuocere gli alimenti, ma serve anche a riunirsi e facilita il racconto di storie. Quindi questa dimensione artificiale è in realtà una delle cifre dell'umano. Ma queste sono cose che si dicono da molto tempo. Un autore che ho trovato molto molto utile da questo punto di vista, secondo me, Simondon e più recentemente forse anche Stigler, perché dobbiamo stare attenti a demonizzare la tecnologia, partendo da Platone in avanti, è tutto una lagna su un ipotetico mondo originario, incontaminato, in cui l'uomo esprime la sua natura. Noi siamo quella roba lì. Oggi abbiamo il digitale, abbiamo i computer, abbiamo degli strumenti di esternalizzazione delle memorie che verosimilmente ci cambieranno. Quindi tra 50 anni immagino che gli esseri umani saranno un po' diversi da come sono oggi, non ho dubbi da questo punto di vista. Prima di farle una domanda specifica sui computer, che mi incuriosisce molto, voi avete studiato cosa succede nel cervello quando si ricorda o quando si condivide un ricordo? Cioè ci sono degli studi? No, no, io non mi sono mai occupato. Diciamo quello che noi cerchiamo è, una parte della nostra ricerca è cercare di capire in che modo la storia precedente influenza la risposta qui ed ora. Questa è un po' l'idea. La risposta quindi della singola persona. Sì. Rispetto invece alla condivisione di una memoria, me l'ha già detto però insomma. Il tema della condivisione oggi è un tema molto caldo, non solo la condivisione del ricordo ma la condivisione delle esperienze. Sono ricerche particolarmente difficili perché noi sostanzialmente, insomma quello che facciamo, noi guardiamo il mondo al buco della serratura. Non c'è niente di più artificiale di un laboratorio di neuroscienze, dove ci sono delle persone che stanno sdraiati in un tunnel, che vedono su un monitor di un computer una finzione che in qualche modo noi spacciamo per un pezzo di realtà per capire poi come funziona il cervello della quotidianità. Siamo messi un po' così. Quindi diciamo è un problema di avanzamenti tecnologici. Una volta che si renderanno disponibili a dei prezzi affrontabili anche dai dipartimenti universitari italiani di tecnologie wireless che in parte ci sono per registrare, noi ci abbiamo provato, abbiamo registrato il cuore di quattro spettatori mentre assistevano a una performance teatrale dal vivo anni fa. Con i cervelli ancora non ci riusciamo perché di Eginio 1 ne avrei bisogno di 4. Ci stiamo attrezzando e sulla condivisione del ricordo sinceramente è un tipo di letteratura che non conosco, non saprei. Però lei si è occupata di cinema per esempio, ha scritto un libro schermo empatico che significa che se io vedo un film è un testo di neuroni di rispecchiamenti. Qui in questo solito tentativo del neuroscienziato di ridurre il coefficiente di artificialità dei suoi esperimenti, abbiamo fatto un esperimento in un cinemino a Mitte a Berlino e il quesito era capire se la risposta emotiva di fronte alle stesse scene, avevamo scene a varia coloritura emozionale, gioia, paura, rabbia, scene d'amore. Il quesito li era come risponde emotivamente lo spettatore paragonando una situazione in cui è da solo rispetto a una situazione in cui condivide l'esperienza con altri. E come sempre i dati sono sempre più complicati di come uno se li immaginerebbe. Non c'è una risposta a tutto o nulla, dipende dalla personalità del soggetto che tradotto in termini fisiologici dipende dal bilancio individuale della tendenza ad accelerare o rallentare il cuore, il tono vagale. Per cui ci sono persone che si emozionano di più in compagnia rispetto a quando sono sole e altre che mostrano risposte di segno opposto. Questi comunque sono temi ancora pochissimo esplorati, ne sappiamo pochissimo, proprio perché per motivi tecnici, per scarsa fantasia forse anche nostra, la nostra è una scienza di individui messi di fronte a uno schermo o nella migliore dell'ipotesi messi di fronte a un altro individuo. La dimensione della condivisione sia per motivi tecnici che per scarsa fantasia è ancora relativamente poco esplorata, quindi c'è molto da fare. Ma è come se tutto fosse condivisione ma fosse tutto dinamico, cioè se condivisione fosse una parola che avviene, non una parola che descrive qualcosa che è avvenuto. Certo, certo, ma noi costantemente, noi siamo delle spugne, noi assorbiamo, ma questo adesso non voglio dire delle banalità, ma basta passare un po' di tempo con una persona magari con cui abbiamo un legame molto stretto, affettivo, fisico, che ha delle tipologie, degli intercalari, delle cadenze, dei modi di muoversi, noi istantaneamente con questa progressiva frequentazione le assorbiamo e c'è questa dimensione camaleontica nell'umano. E che è la capacità poi di comprendersi ed è il motivo per cui la lettera posso leggere un romanzo di duemila anni fa e riconoscere un'emozione simile alla mia. Sì, diciamo che il materialista che è in me mi fa dire che i mattoni sono sempre quelli, però questi mattoni li possiamo utilizzare per costruire delle architetture molto diverse. Anche a seconda del tempo e delle tecnologie che abbiamo a disposizione. Non c'è dubbio. Infatti la domanda che le faccio nasce da un disagio che provo sempre più intensamente, sempre più spesso quando rispondo ai call center, che incomincio a capire che per avere successo in termini evolutivi devo incominciare a pensare in termini binari, cioè devo incominciare a pensare come computer, perché ovviamente sono loro che dettano il tono della discussione. Ecco, questo significa che il mio cervello si sta plasmando sempre come computer. Sempre. Significa che il cervello è... Ma voglio dire, il cervello, secondo me anche questa discussione, il cervello è un computer non è un computer, è un falso problema. Bisogna vedere da che punto lo prendiamo il cervello. I neuroni sono delle cellule eccitabili che emettono delle scariche elettriche, dei potenziali d'azione. Non sono agenti epistemici, non conoscono nulla del mondo, vengono attraversati da ioni che gli danno le proprietà elettriche che hanno. Punto. Tutto quello che diciamo di noi attiene a un livello di descrizione che è quello personale. Quindi, se qualcuno dice il cervello opera delle computazioni, può anche andarmi bene. Lo possiamo modellare come se fosse un computer. Senza però perdere di vista il punto fondamentale che questa parte del nostro corpo è letteralmente integrata in un qualche cosa di olistico di cui stiamo cominciando a vedere le connessioni. Io credo che noi convergeremo con il mondo asiatico, anche se percorrendo una strada tutta nostra, tutta diversa. Ma l'individuo è olistico. Cioè, noi oggi sappiamo che la corteccia motoria proietta la midollare del surrene. Cioè, uno dei temi oggi su cui si sta indagando di più sono i rapporti cuore-cervello. E quindi questo spiega anche perché per tanti secoli il cervello era irrilevante, no? La sede delle passioni. Poi ci sono tutti questi parallelismi con le tecnologie di moda, la dinamica dei fluidi, poi l'elettricità, la centralina, il telegrafo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il cervello lo possiamo descrivere da molti punti di vista. L'unico punto di vista che non dobbiamo perdere è che il cervello è necessario ma non sufficiente. E quindi qui le neuroscienze, secondo me, sono un po' colpevoli nell'esagerare questo cerebrocentrismo per cui sembra che tutto debba essere confinato al volume della scatola cranica, senza la quale ovviamente non c'è niente. ma che è quello che è e che diventa quello che è in relazione di tutte queste interazioni intrapersonali e interpersonali con il mondo fisico. All'inizio lei mi ha detto che ero stato intimorente, ma questa ultima cosa è esattamente quella che le avevo detto. Sono finiti tutti i dualismi, entriamo in una cosa olistica dove i confini sono molto... Non ci portano, non sono molto ottimista. Grazie a Vittorio Gallese. Grazie a Vittorio Gallese.